Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me Se c'è un veleno morirò ma sarà dolce accanto a te Perché l'amore che non c'era adesso c'è Se c'è un veleno morirò ma sarà dolce accanto a te Perché l'amore che non c'era adesso c'è Tornati al caffè in questo lunedì 27 di novembre Ci siamo per parlare sì di sport, sì di attività fisica e sportiva Ma mixata alla solidarietà e a un evento che torna con una doppia X accanto Per quanto concerne non certo un doppio pareggio Non è questo il caso ma la doppia X è il numero romano Che significa il ventesimo appuntamento con la fiaccolata Che torna anche in questo 2023 con tante novità Si terrà sabato 9 dicembre ma già i preparativi sono in pieno ITER E a organizzarla è come sempre l'Icubium Bike Adventure E qui con noi c'è Giorgio Tomassoli, buongiorno Giorgio Buongiorno, buongiorno a tutti Allora ventesima edizione, andrei subito al punto Perché poi parleremo anche di tante altre attività Che l'Icubium Bike svolge durante tutto l'anno Il nome è palese che a dicembre c'è questo appuntamento con la fiaccolata Che ogni anno coinvolge tanti ragazzi, tante persone Richiama tanto anche appunto al fine solidale Da cui l'Icubium Bike Adventure è sempre molto sensibile E quest'anno credo che per questo appuntamento così speciale Per un appuntamento che di fatto a modo suo è andato avanti Anche nei tempi di coronavirus Credo ci siano tante novità suggestive anche da raccontare in vista del 9 dicembre Sì, diciamo che fa un po' paura, 20 anni quindi sono volati via Però sono passati quindi dobbiamo andare avanti E continuare a dare continuità Anzi forse il bello è che è rimasta questa iniziativa nel tempo Nonostante tutto quello che è cambiato nel corso degli anni Sì, con tutte le difficoltà, tutte le problematiche Per ultima ecco la pandemia, due anni veramente difficili Che abbiamo comunque dato continuità con Se ricordi la fiaccolata online, quindi quella virtuale Che forse è stata una delle più belle poi alla fine Perché abbiamo trovato persone sparse nel mondo Che comunque hanno partecipato anche con una foto Però sono state vicine a noi E poi ecco, negli arco degli anni Ci sono state delle fiaccolate più belle Più numerose, meno numerose L'anno della RAI, di linea verde Però forse quella che è rimasto più nei nostri cuori È quella con la partecipazione dei ragazzi del centro Aldo Moro del KT Perché comunque con loro c'è un rapporto diverso C'è forse uno degli obiettivi dell'associazione Quello di aiutare chi è meno fortunati di noi E anche quest'anno daremo il nostro ricavato All'associazione AILC di Gubbio Come abbiamo fatto anche a luglio Quindi continua il nostro piccolo Il giro delle fornaci Il giro delle fornaci, sì esatto In questo caso invece la fiaccolata sarà devoluta Proprio all'associazione del presidente Benvenuto Procaccio Entrando un pochino più nel dettaglio Visto che già da questa locandina Vedo questo mix Mountain bike, gravel, bici d'epoca Ecco, possiamo capire di cosa si tratta Giorgio? Sì, allora innanzitutto Se mi permetti Farei notare che comunque vicino al nostro logo C'è quello di cicli neri Una collaborazione che è venuta subito dopo La dispiaciuta notizia Che è venuta a mancare il nostro amico Peppe Bocci E quindi sono subentrati questi ragazzi Ragazzi veramente seri Professionalità Disponibilità E una collaborazione che nasce proprio dal nostro campetto scuola Dove diciamo anche se i loro ragazzi Loro praticano comunque l'enduro E quindi magari le prime L'approccio alla bicicletta Vengono da noi Per poi proseguire con loro E dopodiché come hai citato te Giustamente dal titolo Ci sono delle diverse specialità La gravel perché comunque è la bici del momento Ed è favolosa Quindi c'è È una gran bella bici È una bici che comunque ti permette di andare su strade bianche Tranquille Quindi chi viene dalla strada può permettersi di E quindi abbiamo inserito anche loro E forse c'è il ritrovo dell'amico Tiziano Brunetti Perché vent'anni fa avevamo creato la fiaccolata insieme a lui Con le bici d'epoca E quindi diciamo diamo la possibilità anche loro di essere con noi nel gruppo Pubblicizzando anche la favolosa L'evento che hanno È un grande successo quest'estate Esatto L'evento che hanno fatto loro lo scorso anno a giugno E che hanno già in previsione per il 2024 di nuovo a giugno Quindi noi saremo con loro perché comunque la collaborazione fra associazioni è fondamentale E lì peraltro c'era una testimonial d'eccezione come Giada Borgato Se non vado errato oggi Voceraio ed ex ciclista E credo che parlando di testimonial potrebbe esserci anche per la fiaccolata Se non vado errato Giorgio Sì Quest'anno abbiamo Come testimonial Abbiamo la campionessa italiana di ciclismo su strada del 2005 La Silvia Pairetti Che è stata con noi anche a ottobre in un altro evento E quindi verrà con noi E non so se userà la gravel o la mountain bike Comunque sarà con noi e farà la testimonia Oltre a altre novità Perché purtroppo lo scorso anno non abbiamo potuto eseguire la fiaccolata per un'ordinanza per l'allerta meteo Ma quest'anno oltre a Luca Panichi Che sarà sempre presente in Basilica Nella sua diciamo crono scalata Ci sarà la discesa anche di quel ragazzo che avevamo citato l'anno scorso Il non vedente Quindi proveremo quest'anno a farlo scendere in tande E quindi ecco E poi ci sarà la grande novità della fiaccola Non abbiamo più la fiaccola diciamo Con la fiamma Ci siamo evoluti anche noi Diciamo tutto Diciamo legato alla sicurezza Alla sicurezza con i ragazzi Alla sicurezza anche degli stessi mezzi E quindi abbiamo comunque Una fiaccola diciamo Elettrica E con i led Va bene E sì nel 2023 chiaramente bisogna aggiornarsi da questo punto di vista Qui vedo anche il programma Per quanto riguarda sabato 9 di dicembre La ritrova iscrizione dalle ore 13 dal negozio Cichineri in via Benedetto Croce Poi la partenza dalle 14 La scesa alla Basilica di 25 km Il Brindisi con benedizione del Rettore della Basilica La discesa intorno alle 16.45 Con un percorso che si sannoderà lungo le vie del centro storico L'arrivo al negozio di Saldi Sport che è da sempre vicino appunto All'Icubium Bike in via Campodimarte Con il Brindisi conclusivo E tutti i partecipanti Anche la possibilità di noleggio di bici presso il negozio Cichineri Insomma la solita giornata La solita fiaccolata Che però quest'anno come detto Sarà caratterizzata da tante novità Nonostante questo percorso Che sicuramente è tanto suggestivo Con le luci dell'albero accese Chiaramente Giorgio per quanto riguarda Quello che si sarà il 9 di dicembre Magari ci saranno anche immagini di repertorio Che possiamo vedere anche per far capire A chi è da casa Cosa è la fiaccolata Ma l'Icubium Bike Adventure Non è chiaramente solo la fiaccolata Ma è anche tante altre cose Perché qui ad esempio Giorgio Ho altre foto che riguardano Quello che è un po' la casa La casa dell'Icubium Bike Vediamo intanto le foto Le immagini Scusate Grazie alla nostra regia Della fiaccolata E questa discesa appunto Dal Montengino Come si può vedere con le fiaccole dietro La bici Ricordo che il fine di Cittore È sempre quello della solidarietà E in questo ventesimo anno C'è la voglia proprio Di ulteriormente In qualche modo cercare di migliorare Quanto fatto in ultimi anni Qui anche proprio le immagini Da Via Campo di Marte Dicevo Giorgio Per quanto riguarda proprio Le attività dell'Icubium Beh C'è anche una casa Legata all'Icubium Bike Che è quella posta Nella frazione di Ponte d'Assia Gubbio E che è in fase di restyling Come possiamo vedere anche Dalle nostre foto Se non vado errato Sì Diciamo che comunque Purtroppo Quando uno Sta in campagna Sa che c'è sempre da fare Quindi Dobbiamo sempre Darci da fare Fra il tagliare l'erba Preparare a cambiare la pista Abbiamo un piccolo campo scuola Che comunque È utile per Per i ragazzini Più piccolini Infatti adesso Stiamo vivendo Diciamo Il passaggio Di testimoni Quindi Abbiamo I ragazzi più grandi Che comunque Conoscono altre realtà E quindi Sono subentrati i piccolini Il campetto va bene Poi abbiamo vicino Comunque Delle bellissime zone Tipo Villa Fassia Abbiamo Tutto il nostro Compensorio Comunque è fantastico Per non lasciare indietro La città Comunque Fra Parco Oranghiacci Dove abbiamo fatto Tante iniziative E anche altri luoghi Comunque si presta molto Sabato scorso Siamo stati Nella zona del teatro romano E abbiamo partecipato Anche all'iniziativa Che c'è stata Legata al femminicidio Quindi Con i ragazzini Anche se eravamo in bicicletta Ci siamo legati al corteo Quindi Non è solo sport Ma è La grande attenzione sociale Questo viene rimarcato anche Proprio Nei vari anni Da ciò che Il Cubium Bike Ha portato avanti Per esempio Sul tema della Sicurezza stradale Soprattutto per quanto riguarda Chiaramente Le due ruote I pedali In questo caso Con la fondazione Scarponi E lo stesso Di casi di fatto Anche se su altre tematiche Con Il folto gruppo Che da Cesenatico Sappiamo Sta vicino A Marco Pantani Giorgio Sì Fra l'altro Io non lo volevo dire Però ormai Mi ci hai portato Anche quest'anno Ci saranno gli amici Di Cesenatico Quindi Ci saranno presenti Per la fiaccolata Con Stefano Bagnolini Che è Diciamo che La persona Che guida il gruppo Sì Hanno proprio caratterizzato Le attività Non solo legate Appunto Al semplice Stare in bici Ma A Diciamo Utilizzare il mezzo bici Proprio per arrivare A qualcos'altro Sotto questo spirito Chiaramente E la fiaccolata 2023 Che come detto Si terrà Sabato 9 di dicembre Posso chiedere anche Dal punto di vista Organizzativo Per una società Come l'Equibium Bike Com'è Cercare di portare avanti Tutto questo Perché Non credo sia Nemmeno semplice Cioè credo La passione sì La forza e volontà sì Ma credo Sia abbastanza complesso Appunto Essere comunque Presenti E dare questo Sostegno A chi appunto Poi Chiaramente Viene interessato Ma in generale Alla città stessa Per quanto riguarda Le iniziative Sì Diciamo che ormai Dopo vent'anni Il Diciamo la parte più difficile È Già pianificata Quindi È molto Non dico semplice Perché non c'è nulla Di semplice Però Diciamo che Grazie alla collaborazione Ecco Quei è importante dirlo Con le altre Associazioni La Gubbio Runner Che magari Dà una mano A degli incroci Come noi l'abbiamo data La Favolosa La Favolosa Quindi c'è uno scambio di Per agevolare Ovviamente Sia l'amministrazione Sia tutte le problematiche Che si possono incontrare Sulla viabilità All'interno del centro storico Detto questo Poi ripeto C'è molta disponibilità Quindi vai a chiedere Magari Altre associazioni Quest'anno abbiamo Davanti Per esempio Un quad Che comunque Ci fa un po' Di apripista Diciamo così Ed è molto utile Quindi c'è la collaborazione Questa Diciamo È legata Alla passione Alla passione Alla voglia Di fare sempre Un qualcosa di nuovo Parlando di passione Qui vediamo Luca Panichi Con la Fiaccoli In uno storico arrivo In via 20 Settembre Se non vado errato Qui eravamo Per quanto riguarda La Fiaccolata Corso Garibaldi Insomma Pieno centro Di Gubbio E credo Visto che siamo davvero In chiusura Che proprio queste immagini Siano il senso Di questa occasione E credo che L'invito sia Appunto Di restare connessi Sui social E poi Il nove Di essere più presenti Possibile Sì Di essere presenti Diciamo che Tempo permettendo Anche comunque Batterci le mani Quando passiamo Diciamo Nelle vie principali E quindi Ecco Anche Il famoso Il calore No Di una fiaccola Legata al calore Di un battito di mani Eh sì E ricordiamo chiaramente La finalità Benefica Con Ciò Che Si otterrà Appunto Dalla fiaccolata Che sarà devoluto Ad Aelc Per quanto riguarda L'appuntamento Delle nove Di dicembre Siamo davvero in chiusura Ringrazio davvero tanto Giorgio Tomassoli Grazie a tutti voi A tutti quanti Che chiaramente Risentiremo nel corso Dei nostri appuntamenti Informativi Su TRG Per parlare delle Iniziative Multiplay Che porta avanti Cubium Bike Adventure L'appuntamento Intanto è per il nove Di dicembre Con la fiaccolata Ventesima edizione In questo 2023 Ricordate Lo chiaramente Ne parleremo anche Nel corso Dei prossimi giorni E tutto per quanto riguarda Anche il caffè Di TRG Ringrazio Alessandro Orsini In regia Ringrazio Tutti voi Che ci avete seguito Ricordo i appuntamenti Con l'informazione serale 19.30 Tg Alto Ascio 19.50 Tg Alto Tevere 20.30 Torna invece fuori gioco In prima serata Dunque sulla nostra emittente Tg Mattina Torna domani Dalle 7 A partire Con prima pagina E tutto per questo Lunedì 27 novembre Per quanto riguarda L'informazione mattutina Vi lascio con la programmazione Della nostra emittente Buona giornata E buon inizio settimana A tutti voi Ma cosa hai messo nel caffè Che ho bevuto su da te C'è qualche cosa di diverso Adesso in me Se c'è un veleno morirò Ma sarà dolce accanto a te Perché l'amore che non c'era Adesso c'è Se c'è un veleno morirò Ma sarà dolce accanto a te Perché l'amore che non c'era Adesso c'è Na-ra-di-ra-ia Na-ra-di-ra-ia Na-ra-ia-ia Ma sarà dolce accanto a te